Abbiamo incontrato il Presidente e abbiamo esposto la nostra preoccupazione relativa alla necessità di avere un Governo al più presto possibile. E non è soltanto un'esercitazione retorica. Un Governo è necessario per mettere il Paese a riparo delle tempeste che stanno testimoniando in Paese Mediterraneo la gravità di una situazione che potrebbe rovinare sulle famiglie italiane, ancora più di quanto non accade in questo momento. Abbiamo posto il problema con riferimento alla necessità di un'autorevolezza da parte del Governo per poter negoziare in Europa una condizione simile a quella che Paesi come la Francia stanno negoziando per la loro realtà. Abbiamo posto insieme, ma i colleghi poi dettaglieranno, alcune priorità capo alle quali vi è la necessità di giungere ad una legge elettorale capace di esprimere Governo, la priorità relativa all'occupazione, la priorità relativa al sostegno alle imprese italiane. Naturalmente ci rendiamo conto che per far questo non occorre un Governo, pur che sia, occorre un Governo, che può essere chiamato di scopo, capace di realizzare gli obiettivi. Abbiamo trovato il Presidente, come sempre, molto attento e molto consapevole della difficoltà del momento con il consueto rigore costituzionale che in questo momento, credo, assuma un significato ed un valore assoluto in una stagione a quanto complicata come quella che stiamo vivendo.